Ben trovati amici, l'appuntamento con l'informazione di TeleIbrea sul canale 89. Oggi è il 6 giugno e lo avete sentito in tutte le televisioni, tutti i giornali, hanno fatto riferimento a questo anniversario, 80 anni, sono passati 80 anni da quando il 6 giugno del 1944 ci fu lo sbarco delle forze alleate in Normandia. Queste sono delle immagini, ma c'è una filmografia enorme, abbiamo visto anche in questi giorni, ci hanno spiegato come le forze americane avevano varie squadre di operatori cinematografici, addirittura guidati da grandi registi come John Ford, quindi registi che avevano nel mondo hollywoodiano avuto successi straordinari prima della Seconda Guerra Mondiale. E quindi è stato un momento epocale con una serie di tragiche vittime, perché i morti sono stati decine di migliaia da una parte e dall'altra, ma questa volta di più da parte degli alleati, perché erano gli alleati che cercavano di invadere, dall'altra parte erano nei rifugi, nei bunker, c'erano i tedeschi ed è stata una battaglia incredibile. Io devo dire che sono andato a vedere i luoghi dello sbarco, personalmente sono un appassionato di storia e quindi anche della storia della Seconda Guerra Mondiale, sono andato ad Arromanche, che è quel posto dove sono ancora tuttora, ci sono i grandi cassoni che erano serviti per fare i pontili, per fare sbarcare le persone, i soldati dalle navi che come vedete erano lontane, anche uno o due, un miglio almeno dalla costa, perché la costa è molto bassa, si può camminare come da noi per centinaia di metri e quindi era impossibile per le navi arrivare quasi alla riva se non per le chiatte che trasportavano le persone. L'unica cosa che devo dire è che chiaramente questi avvenimenti hanno un grande riscontro turistico-culturale. A Romance quindi è una città che vive di turismo, c'è un grande museo della Seconda Guerra Mondiale con jeep e altre cose e tantissima gente che va a vedere i luoghi dello sbarco. 6 giugno del 1944, magari ne parleremo nei prossimi giorni, magari ormai è difficile trovare qualcuno che c'era comunque che se lo ricorda, ma i video, le informazioni sono tantissime e possiamo davvero parlarne. Cambiamo argomento, il 5 giugno invece, ieri sera, e tutti eravamo lì ad aspettare perché si era sparsa la voce che sarebbe stato mandato in onda in un programma che è quello di Giordano, un'inchiesta relativa alla sanità in Italia e chiaramente vale l'Italia, ma in Italia ci siamo anche noi fino a prova contraria. Quindi siamo partiti dal Veneto, siamo partiti dall'Emilia con tanto di pianto in diretta di quelle persone che non riescono a fare un'attacca, che hanno quindi grossi problemi. C'era un signore anziano che diceva non posso più camminare, devo camminare a bacio di mia moglie perché non potevo fare un'attacca e quindi questa è una cosa che chiaramente ha disturbato moltissimo. Siamo arrivati anche a Ragusa, a Modica e a Ragusa e sono state dette delle cose che non è che possono essere, come dico, non sono vere. Sono tutte cose assolutamente vere che effettivamente hanno dei momenti di defiance, di blocco, l'attacca ancora non funziona, però il problema è che mi sembra un po' esagerato. Un po' esagerato devo dire anche Mario Giordano che ha questo stile che a un certo punto è anche sedioso perché lui parte con un tono normale, poi come fa Sgarbi, come fanno altri, alza la voce, ho alcuni amici che fanno così e poi la voce si strozza, gridano come disperati e la gente normale dice ma che modo di fare è? Mi pare anche esagerato e maleducato. Quindi non c'è dubbio che le difficoltà ci sono. Su questo chiaramente bisogna fare ammenda e bisogna capire che cosa è successo. Io ho cercato di sentire il commissario che mi ha risposto attraverso il suo addetto stampa e mi ha detto che la prossima settimana farà o una conferenza stampa o manderà un comunicato stampa per cercare di chiarire la situazione, ma al momento non vuole parlare. Io mi sono rivolto al dottore Giovanni Noto che ha una doppia festa, ora lo vedrete, lui ha parlato e io di Giovanni Noto mi fido tantissimo. Sentiamo questa intervista.